Il Gran Sasso, la stazione scistica ancora chiusa e si spera nelle precipitazioni che il meteo ha annunciato nei prossimi giorni. Se qualche stazione ha potuto aprire, vedi ad esempio Campo Felice con l'innevamento programmato, a Campo Imperatore la situazione è nera al momento e si fanno gli scongiuri. Pochissimi sono saliti sul Gran Sasso in questi giorni con la funivia, ma è chiaro che con la stazione chiusa la situazione è complicata e lo è soprattutto per le attività commerciali in quota. Tutti gli alberghi sono rimasti chiusi in assenza di prenotazioni. Ada Fior di Gigli, dell'omonimo storico hotel a Fonte Cerreto, proprio alla base della funivia del Gran Sasso, spiega a Rete 8 che la situazione è comune a tutti gli albergatori. Loro, come gli altri, sono chiusi e sperano di poter aprire il prossimo fine settimana se, come si spera, arriverà finalmente la neve e la protagonista. Si sperava nel fine settimana appena passato, dice, ma non è arrivata nessuna prenotazione né tantomeno qualcosa da booking. Per tutto il periodo delle festività, aggiunge la Fior di Gigli, abbiamo avuto pochissime prenotazioni. Un disastro per l'albergatrice aquilana, perché è mancato l'80% del lavoro, numeri che non hanno consentito neanche di recuperare le spese. Il fatto della neve per la Fior di Gigli ovviamente condiziona tutto, perché non ci sono altri motivi a suo giudizio per salire in quota. Chi viene su dice, viene per poter sciare. Turisti non ce ne sono, abbiamo visto solo qualche appassionato di montagna locale. Il movimento, insomma, non c'è e non c'è stato. Uno dei problemi per lei è che non ci sono alternativi allo sci, non esiste un piano B che permette a loro di poter lavorare in assenza di neve. Nessuna animazione iniziativa delle istituzioni per venire in incontro, sostiene. In tutto questo ovviamente c'è da considerare il disastro dei posti di lavoro, gli stagionali fuori dal discorso, ovviamente non essendoci il lavoro. E anche questo è stato un problema enorme per tutto l'indotto e ancora lo è.